ciao ragazze nuovo video tutorial allora in questo video andremo a realizzare il modulo risveglio un modulo molto semplice da realizzare quindi è perfetto per le principianti vi dico subito il materiale necessario per poterlo realizzare allora abbiamo bisogno di super duo le mie amate super duo rocaille 11 0 8 0 e 15 0 della toho cipollotti 3 per 4 mm un rivoli e poi un perno una monachella per attaccare l'orecchino praticamente allora partiamo subito con il tutorial allora la prima cosa da fare è quella di inserire sul lago 18 rocaille 11 0 e chiudere a cerchio io non faccio nodi come vedete ho l'estremità di filo incrociata tra le dita e farò il nodino solo dopo aver inserito le nuove perline allora il filo che sto utilizzando il farline quindi una volta chiuso a cerchio prendiamo una rocaille 11 0 ed entriamo nelle tre rocaille successive rifacciamo questo passaggio altre cinque volte quindi alla fine otterremo un esagono un esagono quindi solo alla fine fate il nodino perché l'ultimo passaggio sarà entrare in questa perlina e possiamo poi fare le due estremità di filo praticamente si incontreranno farete il nodino almeno io faccio così poi voi potete fare anche il nodo prima dell'inserimento delle nuove perline ma non dovete stringere troppo altrimenti poi non riuscirete ad aggiungere queste nuove perline ecco qua come ci ritroveremo sto uscendo da una delle rocaille sforgenti inserisco 3 rocaille 11 0 1 8 0 e 3 rocaille 11 0 e passo nella rocaille successiva rientro adesso nella nell'ultima perlina di questa sequenza quindi così e a questo punto inserirò 2 rocaille 11 0 1 8 e 3 rocaille 11 0 quindi 2 1 3 e passo nella rocaille successiva rientro nell'ultima perlina della sequenza appena aggiunta nuovamente 2 rocaille 11 0 1 8 e 3 rocaille 11 0 e rientro nella rocaille successiva e anche nell'ultima della sequenza appena aggiunta vado avanti così fino alla fine del giro nell'ultimo passaggio nell'ultima infilata vi faccio vedere come fare allora ecco qua come ci ritroveremo io sto uscendo dall'ultima perlina dell'ultima sequenza aggiunta come vedete dobbiamo mettere l'ultima sequenza non dobbiamo aggiungere 2 rocaille 11 0 1 8 e 3 rocaille 11 0 ma dobbiamo sfruttare l'ultima perlina di quest'ultima sequenza e la prima perlina della sequenza successiva quindi inseriremo 2 rocaille 11 0 1 8 e 2 rocaille 11 0 entriamo dall'alto verso il basso nella prima perlina della sequenza successiva state attenti a questo passaggio non è difficile ma quindi sto uscendo da qui rientro nella perlina sotto di base e risalgo nuovamente nell'ultima perlina spero di essere stata chiara adesso passiamo nelle rocaille successive ed usciamo dalla 8 0 inseriamo 2 rocaille 11 0 e passiamo nella 8 0 successiva facciamo questo passaggio per tutto il giro dopodiché inseriamo i rivoli e stringiamo bene ripassando più volte all'interno dell'ultimo giro ok una volta che il nostro rivoli è perfettamente ingabbiato portiamoci ad uscire da una delle punte iniziali prendiamo 5 rocaille 11 0 ed entriamo nella punta successiva e facciamo questo passaggio per tutto il giro ecco qua come ci ritroveremo fuoriusciamo dalla rocaille centrale delle 5 appena inserite prendiamo una super 2 un cipollotto no scusate ho sbagliato una 15 0 una super 2 un cipollotto una super 2 e una 15 0 questa è la sequenza e dobbiamo inserirci nella rocaille centrale del gruppetto successivo invece il filo che si impiglia dappertutto e facciamo questo passaggio per tutto il giro ecco qua come ci ritroveremo allora una volta fatto questo giro vi consiglio di fare un giro a vuoto per rinforzare la struttura dopodiché portatevi ad uscire dal foro alto della super 2 inseriamo una un cipollotto una rocaille 11 0 e un cipollotto quindi dove sotto abbiamo il cipollotto inseriamo questa sequenza qui ed entriamo nel foro alto della super 2 successiva mentre in questo spazio inseriamo semplicemente un cipollotto alterniamo questi due passaggi per tutto il giro ecco qua come ci ritroveremo adesso tutti i passaggi che vi farò vedere adesso dovranno essere ripetuti nella parte sotto quindi noi andremo adesso a costruire la punta in questa zona qua dopodiché voi passerete tra le perline e farete la stessa cosa sotto quindi noi adesso stiamo uscendo da questo cipollotto inseriamo una 11 3 super 2 e una 11 saltiamo il cipollotto successivo ed entriamo in quello dopo ed entriamo anche nella rocaille 11 0 a questo punto inseriamo una 15 e 4 rocaille 11 0 ed entriamo in questa perlina qui che si trova tra le 15 e tiriamo il nostro filo adesso inseriamo 4 11 e una 15 ed entriamo in questa perlina qui e tiriamo il nostro filo inseriamo 3 rocaille 11 0 e passiamo nel foro alto della super 2 inseriamo una 8 0 e passiamo nella super 2 successiva un'altra 8 0 e passiamo nella super 2 successiva 3 rocaille 11 0 e passiamo nella rocaille 11 0 sotto entriamo anche nella 15 0 prendiamo 3 rocaille 11 0 e passiamo in nella quarta rocaille 11 0 e nella prima del gruppetto successivo quindi in questa tiriamo tiriamo e anche nella perlina del gruppetto successivo prendiamo 3 rocaille 11 0 ed entriamo nella 15 tiriamo e rientriamo nuovamente nella 11 0 ok state sempre molto attenti a tirare il filo passiamo nelle 3 rocaille 11 0 nella super 2 e nella 8 0 inseriamo una 11 una 8 e una 11 e passiamo nella 8 0 successiva e abbiamo fatto la nostra punta adesso non dobbiamo fare altro che passare attraverso le perline e arrivare fino a questo cipollotto da questo cipollotto andremo a fare gli stessi passaggi che vi ho fatto vedere adesso ecco qua che il nostro modulo risveglio è pronto ho messo l'anellino all'interno della 8 0 e questo perno spero vi piacciano e niente ci vediamo al prossimo tutorial ciao